Gesù disse, chi vuole seguirmi deve rinnegare se stesso, e lui dice che è qui per rinnegare se stesso. Adriano Celentano! Pregherò per te che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai, io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai, non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ora sprende su di noi, su di noi. Dal castello del silenzio, egli vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai, e chi sa che lo vedrai, sotto gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavramma. Io d'amo, 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 questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore, nel Signore. Io d'amo, 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 questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore. La fede è più quel dono che il Signore ci dà per vedere lui, e allora tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai. Vedrai, 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 vedrai.